Ok, ciao a tutti, sono il Fox, in teoria siamo contro lui in questo momento, cioè, tra un po' dico. La liquidatura mi sembra molto probabile. Grazie, quasi quasi mi commuovo. Sai, io amo le armi, amo la loro forma, il loro peso e anche il loro odore. Io dico che devi farti curare. La mia preferita era l'arma che aveva costruito Mar per violare il nido delle teste di metallo, ma quell'astolto morì prima di usarla. Oh, che peccato! Così la mia preferita è la bomba perforante che ho completato ora. Il mio gioiello è così potente da spaccare la pietra del Precursor e liberare l'enorme energia che contiene. Quando il barone avrà la pietra, la porteremo nascosta nell'ultimo carico di eco al nido delle teste di metallo. Un bel dolce sorpresa! Prendi questo potenziamento per arma e dimentica ciò che hai visto. Non questa volta, Kruk, sono stanco di fare il tuo sicario. Se vuoi la guerra, allora l'avrai. Lo sai che non posso combattere onestamente. Ho un'arma segreta, è il campo dubbligatore. Saluta il mio amico. Moltiplicarvi! Adesso Pru parla a produrre tempo. Però adesso potrò prendere finalmente a pugnitizio. Che a parte il fatto che ci dà potenziamenti, non serve un cazzo. Ma poi, perché in teoria sti poteri strani, Kruk? Ma è vaffanculo, tanto ce l'ho poca vita. Permettimi di presentarti alla mia truppa. Alla mia trippa, proprio. Ma dico, perché gli serve l'esercito se può fare ste cose, Kruk? Cioè, da solo, va in giro. Fa sti macelli. Proprio molto semplicemente, così. Ok, esplodete. No, 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 via da me. Questi cosi kamikaze sono stronzi. Tra un po' sentirete che Sly lo uccita ai monstres, eh. Ok, no. No, merda. Via da me! Ho tante munizioni, posso notare. Ok, questo qui è l'unico nemico del gioco che crew... No, che quest'arma non può perforare, a quanto pare. Explori. Grazie. Ora mi sono stancato. Facciamola finita. Vieni qua, ti prendo a pugni. Oh, che male. L'hai preso! Aiuto. Guarda come cagano questi uomini. Comunque non sembra più difficile di ciò che abbiamo fatto finora. Ok, morite? No, 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 no. Via! Maledizione. Facciamo il giro. Ma non si pariscono anche da soli. No, potrò distruggere tutti con la pistola. O con le armi varie. Insomma, non ha nessuna pistola. Già, cosa dico pistola? Con le armi da fuego. Merda. Programma che si blocca. Dov'è? E siamo qua. Via. No. No. Sì. No. Explodete. Grazie. Morite tutti. Che mi spesso un gran favore facendolo. Via. Mori. Grazie mille. Troppo gentili. Morire proprio. Dove siete? Morite. No, 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 no. Ok, mi è bastata solo una munizione. No, ok. Come non ho detto. No, 21. Grande. Adesso in teoria dovrebbe arrivare il crew incazzato che fa... No, ah no. Tipo questi. In teoria, eh. Quanti ce ne sono? Puh. Attacco triplo. No. Tu lo prendi nel culo invece? Oh, stronzo. Come ho convinto di essere più di una persona. No, 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 no. Esatto, statemi lontani. Bello che abbiamo fatto anche un'animazione per correre solamente per quei tizi. Pezzo di merda. Ok, 121 proiettili. Chiuserò. Ok, questo qua mi ispira di più. No. No, forse è meglio di no. Allora mi hanno messo di cose, c'è della vita. Il Peasmeaker. Merda. No, no, no. Uh, 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 uh. Questo qui si chiama efficace per questi affari. Poi mi lamentavo del Peasmeaker prima. No, 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 va benissimo. Oh, stessa di merda. Ho ancora munizione che userò. Ah, ok, come ho detto. Ah, ma tornano sempre le casse. Buono. Cazzone. No, 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 no. In teoria, se ho al massimo tutte le altre armi, dovrei dare i colpi del Peasmeaker. Se ci fossero le casse. Ah, affari in culo. Posso farcela anche senza. Merda. Facciamo così. Ah, mi è servito un cazzo, fantastico. Ehi. No. No. Tu hai a morire. Si, ma... No, 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 no. No, no, no. No, 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 tu devi morire. Tu piccolo Allora c'è troppo È il guidante, è il contatto a terra È tardi per darti il preavviso Sì, ci licenziamo La città è già morta ormai Vi ho venduti tutti Jack, credo che dovremmo andare da qualche altra parte E subito anche Ashley Andiamocene Ragazzi, trovate mio padre Io porterò il cuore di Mara a Kier Mi spiace se sia arrivati a questo Io lo sapevo, per esempio Ok Direi che questa parte è finita indietro fine Anche se non è durato un cazzo Ehm, sì, purtroppo Clu non ha detto la frase che dicevo io Vola come una fana, appungi come un'hap Però succede nella vita purtroppo Facciamo questa cosa No, l'ho mancato Il prossimo lo faccio saltare in aria E poi concludo la parata Perché Senza esplosioni non va bene La parata anche se prima ce n'è stata una Ok, perfetto Posso interromper la parata è qua Ok, è il Fox Alla prossima, ciao Dov'è? Qui